E' stato quindi trovato l'accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali. Le novità riguarderanno anche il trasporto pubblico, i treni, gli autobus di linea. Donate la speranza. Il primo punto dell'accordo riguarda il numero dei posti utilizzabili, non più il 50 come previsto inizialmente, ma l'80%. Il numero potrà essere ulteriormente aumentato nel caso di percorsi brevi, della durata massima di 15 minuti e nel caso in cui sui mezzi sia garantito ricambio d'aria e filtraggio. Obbligatorio poi l'uso della mascherina per i passeggeri e il distanziamento fra i singoli posti. C'è anche l'ipotesi di separatori tra i sedili, cosa che garantirebbe il riempimento totale dei mezzi. Il Ministero dei Trasporti sta lavorando a un accordo con l'INAIL per individuare il materiale idoneo per lastre e divisorie, ma anche le aziende di trasporto potranno suggerire dei separatori, purché questi abbiano la certificazione sanitaria del Ministero stesso. Su autobus e treni dovranno inoltre essere insalati appositi dispenser con soluzioni disinfettanti, anche in maniera graduale e a partire dai mezzi più affollati. Per far fronte alle nuove spese, alle regioni e agli antilocali verranno stanziati fondi per 350 milioni. Le linee guida, infine, prevedono regole precise per la salita e la discesa. Si deve garantire un distanziamento di almeno un metro ed evitare contatti ravvicinati.